Quest'anno Invito al Palazzo, iniziativa promossa dal Lab in collaborazione con Acri, festeggia i 20 anni di storia. Con questo progetto che nel corso del tempo ci è rivelato un appuntamento di successo, la Cari Fermo invita il pubblico a visitare per un'intera giornata la sua sede storica di Palazzo Matteucci in via Don Ricci di Fermo. Il visitatore potrà ammirare i resti del teatro romano, conservato nei sotterranei dell'edificio, e passare al piano superiore dove nelle sontuose sale sono esposte, tra le altre, le opere di Andrea de Rossarto, Carlo Crivelli, Vincenzo Pagani e Adolfo De Carolis. Successivamente ci attraverserà prima la sala dove sono raffigurati in successione tutti i presidenti della fondazione, per poi entrare nella sala riunioni dove, in bella mostra, sono esposti alcuni lavori di Salvatore Fornarola, ceramiche e delle monete antiche della zecca di Fermo. Ad accogliere i visitatori anche il direttore generale della Cari Fermo, Ermanno Traini. Permettere con la giornata dedicata da parte dell'ABI all'apertura dei palazzi storici di far partecipare tutta la cittadinanza di Fermo, tutto il territorio, ad osservare, ad ammirare quello che poi ci riservano le nostre città, è un altro aspetto fondamentale di una banda del territorio, che non è che interpreta solo l'economia, ma chiaramente ha finalità anche sociali e in questo caso soprattutto culturali. La banca si è promossa fortemente per seguire tutti gli aspetti sanitari e quindi di sicurezza, rivolti soprattutto ai nostri clienti e ai nostri dipendenti. Ovviamente tutte le misure Covid sono state attuate con tempestività, cercando soprattutto di essere vicini alla clientela, interpretando quali erano le euro, anche qualche volta paure, cercando di fare quella consulenza che in alcuni momenti è stata fondamentale per superare un momento veramente, speriamo che sia superato veramente, veramente difficile. Quindi una banca che ha cercato di leggere in maniera sartoriale le singole situazioni per dare risposte concrete, ma soprattutto immediate. Una possibilità di entrare in un luogo pieno di storia e di fascino, che proseguirà fino al 9 ottobre in formato digitale con un podcast su Palazzo Matteucci, sui canali della Banca e sul sito movir.eu, il museo digitale della Banca d'Italia.